Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. A pomeriggio 5 c'è stata un'altra puntata ricca di tensione, e il protagonista è ancora una volta Sebastiano Vicentin, si è liquidate come «balle» le parole della supertestimone che ha raccontato di aver assistito a una lite tra lui e Liliana Resinovic. Ma la vera furia del vedovo si è scatenata contro Claudio Sterpin. La supertestimone è un'amica di lunga data della coppia. Ha raccontato di aver notato Vicentin particolarmente agitato mentre scaricava dei bagagli, ma lui respinge tutto, secondo lui, si trattava solo di un fastidio per uno zaino caduto. La storia della stanza con letti separati? L'unico alloggio disponibile, secondo lui, e riguardo alle presunte minacce dopo la scomparsa di Liliana, Vicentin nega categoricamente. Poi c'è la questione dell'auto rimasta ferma. La supertestimone ha detto che Vicentin chiese soccorso, ma lui spiega che il collaboratore dell'albergatrice trainò il suo veicolo solo per qualche metro fino a quando la macchina si rimise in moto da sola. Infine, Vicentin punta nuovamente il dito contro Claudio Sterpin, accusandolo di aver braccato Liliana fino a farla scappare. Una situazione davvero incandescente che continua a tenere alta l'attenzione su questa vicenda. E voi cosa ne pensate? Credete nella versione di Sebastiano o in quelle dell'albergatrice? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.